Lei è Giulia, ed è una mia ammiratrice, è vero Giulia? Sì Modestamente E Giulia, quanti anni hai Giulia? Tra due settimane e nove Vedete com'è precisa, tra due settimane e nove E che classe fai Giulia? La terza E chi è il tuo catechista Giulia? Isa Di una cosa ad Isa Che parlerà un po' al pugliese e sbagliare alcune parole Parla un po' al pugliese, va bene Però ti fa ridere quando parla un po' al pugliese Sì Vuoi provare a fare un'imitazione di Isa? No Dai al pugliese No Eh, non è studiato i comandamenti, non è studiato È studiato i comandamenti, non è possibile Ha chiesto a memoria Lei è certa, è sicura di sapere tutto E la metterò in difficoltà Di dieci comandamenti in ordine L'hai detto? Allora Uno, non avrai altro Dio all'infuori di me Due, non nominare il nome di Dio in vano Tre, ricordati di santificare le feste Quattro, onore il padre e la madre Cinque, non uccidere Sei, non commettere adulterio Sette, non rubare Otto, non dire falsa testimonianza Nove, non desiderare la donna d'altri Dieci, non desiderare la roba d'altri Giulia, quanto hai preso all'ultimo esame di catechismo? Sei arrivata prima? Non me lo ricordo Va bene, dai Giulia, com'è questo omaggio? Bello Giulia, com'è questo omaggio? È anche mio Verbo